Cari amici di Agronotizie ben ritrovati, questa la previsione per i giorni del Natale, del dopo Natale, dell'ultimo dell'anno, questa la tendenza, una tendenza tranquilla sino al giorno di Santo Stefano e anche oltre con l'anticiclone di Natale, la stabilità, le temperature sopra media che pian pianino tenderanno un po' ad abbassarsi, foschie, nebbie, quindi gradevole, mite di giorno, freschino, umido di notte, poi tra il 29 e il 30 una perturbazione dell'area più fredda scivolerà dal nord Europa e investirà quindi anche la penisola italiana, tornerà la neve sull'arco alpino, localmente anche sull'appennino più settentrionale ma a quote molto elevate, torneranno delle piogge da prima al nord, poi al centro e a seguire anche al sud tra gli ultimi giorni dell'anno e i primi giorni del 2024, al sud un richiamo, almeno in una prima fase, di aria piuttosto mite, venti da sud in rinforzo e quindi con mari mossi, però comunque pian pianino le temperature negli ultimi giorni dell'anno tenderanno a calare, prima al nord senza eccessi ma caleranno, prima al nord poi al centro e a seguire anche sulle regioni meridionali, arrivederci.